Preghiera del mattino È risuscitato E oggi, in questa domenica Noi facciamo memoria del suo trionfo sul peccato e sulla morte Donaci gli occhi della fede E orecchi che ascoltino la tua voce Fa che nel grigiore quotidiano Riconosciamo il profumo della tua presenza E il suono della tua voce Che ci guidi in mezzo al tumulto del mondo Allora in noi la vita del risorto crescerà e si fortificherà Fino a raggiungere la pienezza nella vita trinaria Amen Grazie